Gialli, Gialli, Gialli sedetevi dai, vabbè lasciate il posto di... Nel frattempo ci accendono qualche luce, grazie Vai, Fuzia, attenta un po' Uno, e in sei, in sei, vince un premio, brava! Premio, premio, un premio per una padrona Ecco il premio, la luce arriva, sta arrivando Corsario Cosa ha vinto? Ha vinto un gioiello, per cosa era la prima? Brava! Prattempo, Fuzia Si ha tirato il celeste adesso? Vieni qua, lì Sei bravo, i pompieri Uno, due Non passare sulle caselle, i pompieri Tre, quattro, cinque, sì, quaranta e cinque Oh, qua deve ballare un po' Piero, con tutta la squadra La squadra, ci serve la squadra Squadra rossa? No No, squadra celeste Squadra celeste Attenzione, le caselle non scivolate Allora, la squadra dovrà ballare la magarena Facendo le mosche, le mosche giuste Vai Giulia, Giulia sai magarena Se no non avrà questa la parambola La parambola, tutti insieme Seguite la Giulia Un po' di luce però Arriva, arriva Sicuro? Si Se pare il buio per intero Vai Giulia, vai Vai, vai, ballata Girate, girate Bampiere, balla Vai, bampiere Vai, bampiere Vai, bampiere Vai, bampiere bravi che erano i gelesti? adesso diranno i rossi gelesti è a posto 23 23 è un pagliaccio vinci un penno però devi passare una parrucca è una gioia di sangue non giro devi fare questo per vincere però vinci un penno allora ragazzi parrucca, naso va bene? parrucca, naso pagliaccio allora ragazzi finché finiamo il gioco dell'oca c'è un super premio al gioco dei barattoli un mp4 con l'album di Gigi D'Alessio nooo nooo allora chi vuole tirare i barattoli si vince vinci D'Alessio in persona chi lo sta giocando al gioco del l'oca può andare ai barattoli chi lo sta giocando al gioco del l'oca può andare ai barattoli chi lo sta giocando a due persone? chi lo sta giocando a due persone? ah scusa bello che sono esigna vediamo il naso ah lo abbiamo attuato oh il naso il naso è quello di me che te non è? guarda l'uca guarda l'uca guarda l'uca metti il naso e vinci un buono sconto a 10 del paese del 9-0 poi ti metti proprio questo però ne metti quasi per questo calma va ti si muove ti mi sono è la mente dove è in mezzo a chi lo rossa? Ragazzi c'è un po' di confusione, allontanatevi dalle caselle, adesso è il gioco del barattolo, fate la fila lateralmente, ma le squadre devono rimanere ferme, le squadre non si possono spostare, le squadre a posto, le squadre giocano dopo, adesso no, chi sta giocando al gioco dell'oca, deve rimanere al gioco dell'oca, le squadre devono stare sedute, le squadre al proprio posto, Ehi aspetta, ehi strega, è una strega quella no? Che casella hai? 36, sei una strega brutta e puzzoletta, torna la casella che non ce l'ho, ecco sei brutta e puzzoletta, E non è colpa mia, è colpa delle strega, vai, sei, bravo, uno, due, tre, scostatevi, quattro, cinque, sei, quarantuno, campanile, vince un premio se canti san mattino, bravo Martino, Ehi, Carlo, bisogna avere Fra Martino tra le mani, faccia un canterino, se vuoi prendere tutto, Carlo, Fra Martino, Fra Martino, prego, Sì, anche la voce, è il premio se vuoi prendere un bel premio, Ehi, voi prendere un bel premio, SoprE' una strata, SoprE' una strata, SoprE' una strata, SoprE' una strata, Suona le campane, suona le campane Tuona non mi ha giocato? Rosso Allora, chi ha tirato? Il? Rosso Adesso il? Si Allora si ricomincia con il Fuxia Fuxia? Vai Fuxia Aspetta, aspetta Allora, ci sono persone che non mi ha giocato? C'è qualcuno? Verde! Chi non ha mai giocato De Verne, tu vieni, vai, vieni qua, aspetta ce ne sono due però di un vero perché non hanno mai giocato, al prossimo giro facciamo giocare lui, vai Fuxia, quattro, uno, due, tre, quattro, trenta, 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 trenta. Se una pepora, pericolo, devi saltare e buare fino alla casella 27 e poi devi ritornare alla casella trenta, 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 trenta. Ma quella non è una pepora, un agnellino? più forte a chi tocca? a chi tocca? a chi tocca? se la puoi fare devi fare uno per me devi fare uno se lo scendi cerca l'uno cerca l'uno eccolo tira mi dispiace devi fare uno poi due torno dietro due tre quattro cinque e sei vai rosso uno due tre 26 non è niente sono sbaglio guarda mia no 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 guarda ti ha tirato il rosso tira il blu il blu due 33 uno ci abbiamo c'è un personaggio cammina cammina ehi andrà parte sta proghi me la giù cortico Maurizio sta proghi ehi vieni qua vieni da qua qui c'è un piccolo problema allora abbiamo bisogno di un aiuto carlo può venire un attimo per favore chi è io cosa vorrei dire allora le tattra faccio un aiuto dai no dai eh è piccino allora facciamo il fuoco ha trovato ha trovato squadra blu pronti che devi fare dovete indovinare una persona pronti vai mintalo vai come come bravi ehi è paolo no è paolo bravi lo apposta a posto sì sì allora vai tira quanto deve fare il verde per l'inice 1 a 42 piano taglia l'inice aspetta no 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 aspetta Agnese c'è un problema succede qualcosa qualcosa devi dire lo sciogli lingua saltando sul piede se dici lo sciogli lingua saltando sul piede arriva la cascela con il qua ehi maru mia ok devi fare così vai 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 devi saltare devi saltare bravo salta 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 bravo 44 a chi tocca vai hai tirato il verde eh buccia ricomincia due è due che numero è? a che numero stiamo capire? il numero 44 però c'è un problema allora a che numero sta giorgi? a che numero sta giorgi? a che numero sta giorgi? a chi ricorda che non ha giocato? allora 34 aspettate cambiate il giocatore però la cascela 34 facciamo un gioco a sorpresa devono cantare il video di Ricicla a Milandia con i costruttori i due costruttori del futuro chi la sa cantare questa canzone della squadra verde? quella? la squadra blu la squadra blu allora deve cantare questa canzone forza la fuzia che ha detto blu? la squadra fuzia la squadra deve cantare una canzone di Ricicla a Milandia Antonella deve cantare una canzone per favore i genitori si portano all'oltenore che non vediamo niente grazie lo sa che una bottiglia di vetro e pallonata può essere senz'altro dei nuovi fuzzi la mia azione 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 la città la mia azione 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 noi non siamo da buttare No ci devi visitae no non siamo bravi Noi non siamo da buttare Tu ci devi riciclare Già bene, già possiamo ancora regalare No, non siamo da buttare Bravi, bravi E' bellissimo, non bisogna buttare niente Non so per fare con l'alato Ora, ora Dopo i fuggi C'è l'estera C'è l'estera C'è l'estera Forza, forza Forza il pompiere Ascire Vieni la pompiere Fai tirare il pompiere Pompiere, veloce, forza, dai Dai, dai pompiere Pompiere con i bracciari Pompiere Lanciate il pompiere, ho trattato 4 1 2 3 E 4 Di nuovo sono 45 No, no, niente a ballo Dai, andiamo avanti Ci tocca C'è l'estera, è rosso 30 30 30 30 10 10 10 10 No, andiamo avanti, andiamo avanti Aspettate, andiamo avanti Blu Ehi, blu Chi è blu? Blu Vieni qua Fai un volo Devi tirare il dado Ehi, cammino 4 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 5 Dove siamo? 45 35 Allora Bravi, complimenti Evelina 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 Sì Sì No, voglio Vieni qua Evelina 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 Diconoscere un compagno della tua squadra Solo toccandolo Diconoscere il compagno Aspetta, Giorgia, aspetta Oggi dobbiamo pulare La mamma pulare Volevo avvisare Che è sparita la mia sciarpa E una mazza di scopa Che vogliamo fare? Abbiamo trovato la sciarpa Non è sparita Esattazione E pure la mazza Se l'era giusto giusto Presa la pepana Un attimo Allora Che gioco stiamo facendo Giovani? Buonasera Senta pure i freddi poi Sì Ok No, no, no Noi siamo già maschi Di natura Bastava dirlo No, no, siamo già maschi Di natura Alla mamma è un Academy Bene Bravo complimenti Bravo Grazie Ragazzi dobbiamo concludere ci stanno togliendo la diretta streaming dall'America salutate per l'ultima volta chi ti d'America chi deve tirare chi ha tirato adesso verde la speranza non si perde 4 2, 3, 4 allora